Sono Fabio Cimino, ho 49 anni. Nel sindacato Fillea sono dal 2008. Fillea si occupa di edilizia, legno, arredo, laterizi, cemento, lapidei e restauro. Siamo in varie aziende dell'Astigiano e nella provincia dell'Astigiano e ci occupiamo anche nel settore edilizia cantieristico. Importante scritto al sindacato perché la Fillea riesce attraverso le nostre sedi e i vari funzionali che ci sono nella nostra provincia, riesce a garantire tutti i livelli delle contrattazioni aziendali, la gestione delle crisi aziendali e il buon funzionamento degli enti bilaterali che abbiamo.